Noi ovviamente come organizzazione sindacale non siamo affatto contrari all'immissione e all'assunzione di personale, soprattutto quando parliamo di buona occupazione e soprattutto quando parliamo di assunzioni a tempo indeterminato, come sono le assunzioni di operai e le assunzioni di autisti, ovvero operatori di esercizio. Noi siamo assolutamente contrari all'assunzione di personale amministrativo, premesso che in Tua ce n'è in abbondanza in considerazione della fusione delle tre società regionali di trasporto e soprattutto siamo contrari all'immissione di nuove figure dirigenziali, così come sono state annunciate nella conferenza stampa di ieri. Da premettere che rispetto alle assunzioni di operatori di esercizio, quindi di autisti e anche di operai, noi avevamo già raggiunto degli accordi con l'allora presidente Luciano D'Amico che prevedevano questo bando di concorso che dovesse uscire nel giugno del 2016. Quindi è passato oltre un anno, un anno e mezzo e adesso, guarda caso, sono arrivate a ridosso di queste elezioni. Noi sinceramente siamo sconcertati dall'idea che in questa regione c'è questo mal costume di gestire le società partecipate, di gestire le società pubbliche in questa maniera. Quindi non agire in funzione delle emergenze, delle esigenze strutturali che ci sono nella società, nelle società partecipate, ma agire in funzione degli appuntamenti elettorali che si susseguono nel corso degli anni. Lei prima parlava di problemi che ci sono e che riguardano il trasporto pubblico locale. Quali sono questi problemi oggi? Ma il problema più importante è sicuramente quello della mancanza di risorse. Noi abbiamo preparato dei dossier, dei fascicoli che avremmo voluto consegnare ai componenti della Commissione di Vigilanza per spiegare le ragioni del nostro malcontento e perché stiamo lanciando il grido all'allarme rispetto alla mancanza drammatica di risorse. Abbiamo fatto anche una valutazione di quante risorse in meno sono state destinate al trasporto pubblico locale tra i fondi tagliati a livello nazionale e quelli tagliati dal governo regionale ed è una situazione drammatica. E ci allarma anche in prospettiva futura perché sappiamo che le prossime risorse saranno distribuite alle regioni in funzione di obiettivi di efficientamento e questi obiettivi per l'Abruzzo saranno irraggiungibili.